...cantante che ci ha avuto la stessa, speriamo di fare un buon risultato, tra l'altro è un debutto perché la formazione è nuovissima quindi ci siamo preparati e vediamo un po' adesso qua, anche se manca un chiede lì Allora, un saluto a tutti, ok, ci vediamo proprio Sì, 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 sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. All'aspiro un po' calmo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire l'impostente. All'aspiro un po' calmo. Questa è l'ultima volta che lo lascio morire e poi e poi. All'aspiro un po' calmo. 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 E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, e poi. E poi, e poi, e poi. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi. E poi, e poi, e poi. 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 E poi, e poi.